Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. Ecco gli aggiornamenti del traffico nelle principali strade toscane. In A1 traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico in direzione Bologna. In A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Termi in direzione Firenze, veicolo fermo in carreggiata. In Fipilita, Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze, coda dovuta a traffico intenso. Nella diramazione SGC Pisa, rallentamenti per personale su strada in direzione Firenze. Segnalati rallentamenti all'uscita lavoria provenendo da Firenze dovuti a personale su strada. Nell'accordo autostradale Siena-Firenze in direzione Siena, restringimento di carreggiata all'altezza di località Plumiano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!